Signore e signori buonasera sta per iniziare una nuova puntata dei i due compari più uno il vostro Gianluca che vi sta parlando Priscilla il grande Sayuz ed il nostro testa di caso in aiuto e pure di supporto anche alla regia di Sayuz vi terranno compagnia anche con i loro ospiti che la diretta del lunedì sera di Radio Sayuz punto it abbia inizio e buonasera buonasera a tutti carissimi amici web radio ascoltatori e web tv spettatori di Radio Sayuz siamo qui in diretta 22 e un minuto primo anche questo o minuti primi anche questo lunedì 17 luglio 2017 puntuali in onda con la forse ventesima o diciannovesima puntata lo scoprirete seguendoci allora un calorosissimo abbraccio a tutti coloro che ci stanno ascoltando anche dall'estero ai nostri connazionali coloro che ci seguono ogni lunedì grazie per il vostro supporto sempre di più e un calorosissimo benvenuto invece per chi ci sta ascoltando per la prima volta e questa sera in diretta su Radio Sayuz con i due compari ma udite udite cari amici che ci seguite questa sera non sono più solo come sta avvenendo nelle ultime settimane da più di un mesetto ma è tornata con noi a farci compagnia per questa serata dall'oltre manica ma non dall'oltre tomba la Priscilla buonasera Priscilla ciao buonasera a tutti ciao Gianluca ciao a tutti sono felice veramente di essere tornata con voi in diretta dall'oltre manica ora di ritardo da noi ti piace quest'ora di ritardo esatto che in realtà poi era anticipo dipende esatto perché te sono le nove e due minuti primi invece noi siamo nel set ora lo capisci Priscilla quando dicevo il set ora che sei lì esatto esatto si dice Priscilla come trascorri le giornate lì in quello della Scozia? no trascorro lavorando perché ho un piccolo lavoretto ma poi ti narrerò meglio privatamente sembra quasi che l'ospite sia tu no vabbè quando c'è bel tempo faccio delle bellissime passeggiate perché qua le hills inglesi sono fantastiche quelle scozzese appunto sono veramente meravigliose quando c'è brutto tempo vado fuori lo stesso mi bevo una bella birra giusto per fare pubblicità regresso alla science e guarda che questa sera siamo osservati perché l'ospite di questa sera che è qui con me è nell'ambito della salute della sanità quindi potrebbe redarguirci e metterci in riga cara Priscilla bene bene allora cara Priscilla bentornata tra noi naturalmente sei qui con noi tutta la serata e ci passiamo la parola e Priscilla scusami vado via veloce visto come sono ormai perché passo la parola anche a un nuovo amico che diciamo così si affaccia al palinsesto su radio science e questa sera ci farà compagnia e qui con noi gian domenico ciao gian domenico quindi serata piena qui sui due compari ciao gian luca buonasera buonasera a tutti buonasera Priscilla e un saluto anche a ugo che è in regia sono contento ed è un onore per me essere qui con voi questa sera bene mi fa piacere gian domenico naturalmente già domenico sarà possibilmente probabilmente non lo so dalla direzione mi faccio portavoce uno dei papabili prossimi nostri conduttori speaker di qualsiasi trasmissione si vedrà quindi già domenico vedremo vedremo esatto bravissimo quindi stasera sei come si può dire in prova diciamo così va oppure per acclimatarti diciamo esatto farò l'ospite quindi intervieni pure quando vuoi farei l'ospite parlante diciamo e non pagante o pagato allora cari amici passo subito la parola alla regia e ringrazio per il suo supporto tecnico dall'altra parte del vetro ha preso posto di saius dietro la coltre di fumo e il vetro annerito da altre cose abbiamo qui con noi il solito che ultimamente mia mi accompagna mia seconda il grande ugo alias testa di caso ciao ugo ma ciao gian e soprattutto ciao a tutti quanti non facciamo scappare gli amici che ci ascoltano per la prima e spero un'ultima volta amici magari fanni o fanni che quindi ho già svelato chi è il nostro ospite ma non l'ho ancora presentato vai logo presenterai io come al solito devo ringraziare tutte le nostre web radio che collaborano e ci rimandano il segnale che sono appunto radio reno web da casalecchio di reno radio favaro veneto da favaro veneto radio sismondi libri da salghereda in provincia di treviso radio isso da modena radio valdichiana dalla valdichiana modena noi radio da modena inoltre ci si può seguire sul sito all'indirizzo www.radioscience.it e ovviamente sulla nostra pagina facebook o face boc come direbbe il buon science sì il vecchio science non dimentichiamoci che siamo attivi sulle chat quella di radio science appunto e quella sempre della nostra pagina facebook inoltre possiamo mandare dovete 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 mandare un se mamma sapesse e un messaggio whatsapp al 393 788 0195 jeluc per non confondere con jean dominic quindi sarà così grazie a lui grazie luca ugo vedi che ci scappa ma grazie ugo per la tua preziosa appunto lista della spesa infatti ricordiamo che questa puntata come tutte le puntate dei due compari anche delle altre trasmissioni che vanno in onda su radio science è poi disponibile in podcast nel nostro sito sulla pagina youtube qua in facebook in diretta live quindi se volete già scrivere all'ospite che tra poco appunto faremo entrare dovete fare delle domande avete curiosità fatele pure scriveteci e naturalmente questa puntata è riascoltabile poi in qualsiasi momento e va in onda indifferita come piace dire in replica il giovedì pomeriggio alle due e allora signore e signori udite udite cominciamo con l'ospite di questa sera comincio a leggere caro ugo e cara priscilla la biografia e dopodiché passiamo la parola alla fanny o fanny come tutti la conoscono allora cominciamo fanny guidolin laureata con l'ode in scienze infermieristiche presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'università di padova riceve un riconoscimento per le tesi sugli effetti del counseling del paziente sottoposto a chirurgia intestinale dal mil dal 2011 coordina il centro stomitizzati scusate anzi stomizzati di castelfranco veneto e monte belluna e segue sia la riabilitazione delle disfunzioni perineali post chirurgiche che tutto il percorso degli stomizzati nel 2014 vince una borsa di studio per approdare all'università pensate un po di ginevra per un corso di riabilitazione all'incontinenza fecale iscritta al registro nazionale degli stomaterapisti esperti in riabilitazione del pavimento pelvico e si iscrive poi naturalmente dal 2011 anche come anzi è professore a contratto presso l'università degli istituti di padova al master in stomaterapia e uro riabilitazione membro direttivo della iscam cioè associazione in continenti estomiti estomizzati di castelfranco veneto e monte belluna in provincia di treviso è parte attiva nell'organizzazione di convegni e incontri di mutuo aiuto e sostegno psicologico e autrice anche e scrittige del blog pelvisto dico bene che c'ho la regia che mi dice di sì per il quale ha ricevuto nel 2014 sempre per l'appunto un premio internazionale questa sera abbiamo qui con noi con il libro storie di straordinaria corsia ed è il suo primo e speriamo non ultimo libro fanny guidolin ciao fanny buonasera a tutti grazie gianluca per avermi invitato sono anche emozionata sinceramente è un'esperienza bellissima questa di poter parlare in radio radio web e sono qua pronta spero di non aver annoiato nessuno finora con tutto quel po di roba lì ma ora cercherò di rimediare io ho paura ho un po di paura allora allora parliamo cara fanny allora intanto cercherò di rimediare io a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando magari che ti seguono ma i tuoi amici che invitiamo quindi ad intervenire scrivendoti e magari mandandoti dei saluti se sono all'ascolto della tua voce ed è un peccato cari amici che non andiamo in onda anche in video fammela passare questa battuta cara fanny perché è anche bello stare qui con lei anche perché adesso vi racconterà delle storie davvero straordinarie intanto cara fanny tu hai vinto noi abbiamo avuto anche il piacere di avere colui che vinto il primo anno il premio prugnola che è un premio qui appunto a castelfranco magari ci racconterai anche come è nata la cosa e salutiamo appunto cristiano che magari al nostro ascolto dall'altra parte del mondo e lui ha vinto il primo anno tu hai vinto questo importantissimo premio il secondo anno praticamente quindi complimenti intanto perché grazie siete stati bravi entrambi grazie da come come è nata praticamente questa tua idea di scrivere certo allora io scrivo da diversi anni in un blog che si chiama appunto pelvix home queste storie di straordinaria corsia sono le storie che io vivo personalmente nell'ambito di lavoro sia e nella corsia ospedaliera ma anche nella corsia domestica ma anche nella corsia della strada in quella di sorpasso dove spesso mi trovo quando vado a lavoro e sono in ritardo ecco quindi la corsia della vita sostanzialmente e ho iniziato a scriverle per naturalmente con il consenso dei pazienti perché avevo voglia di emozionare secondo me in questo momento della vita in cui si va a 3000 all'ora e c'è una frenesia incredibile emozionarsi però sembra ancora essere un qualcosa di ricercato per cui ho detto va bene facciamo emozionare e siccome le vivevo in prima persona le storie con i pazienti che seguivo ed ero la prima quindi ad emozionarmi ho buttato giù proprio appena tutto quello che mi capitava di particolare e quindi le storie più straordinarie a questo punto ho notato che non leggevano solamente pazienti malati o chi aveva qualche problema ma anche persone così curiose o chi aveva magari avuto a che fare con qualche problema sentimentale perché ecco poi magari vi spiegherò meglio sì anche il contenuto del libro si parla molto d'amore e tanti tanti mi hanno detto ma sai che hai una buona penna forse potresti quasi quasi buttare giù in un libro scrivere qualcosina che che ne dici ma insomma io ho visto che c'era questo concorso letterario prunola il premio prunola organizzato tra l'altro da due ora miei carissimi amici che se posso permettermi di ringraziare uno è l'editore andrea tralli editore di panda edizioni e uno è alessandro coppo che è anche un po il mio mentor possiamo dire sì sì a questo punto ho deciso di partecipare a questo concorso senza dire nulla a nessuno ho raccolto 168 storie e le ho messe in questo libro che non era ancora un libro e che poi lo è diventato insomma grazie alla vincita assoluta del primo premio grandioso questo infatti mi ricordo quello che ci aveva raccontato scusa se mi allaccio mi riallaccio a cristiano che anche lui e stesso discorso il premio dalla possibilità poi di pubblicare il libro e quindi questa è una bella cosa perché non siamo come dicevamo degli scrittori professionisti ovviamente però dà la possibilità a chiunque a chi meno se l'aspetta poi perché credo che sia una soddisfazione unica vedere anche nel tuo caso il tuo libro pubblicato e diciamo esposto anche in libredia no che sensazione è una sensazione veramente strana ma poi ancora di più sono le recensioni che ricevo da chi lo ha preso da chi lo ha letto da chi riesce a trarne un qualcosa di posso dire quasi guaritore è diventato il libro sì infatti io mi ispiro alla medicina narrativa che segue principi ben determinati di una certa Rita Chiron americana e attraverso la narrazione della propria esperienza il paziente può stare meglio quindi io naturalmente non trovandomi di fronte a scrittori e con pazienti ho deciso di scrivere io per loro quindi cerco di intrupolarmi nella loro testa e di fare mie un po quelle sensazioni quelle emozioni e poi di metterle giù e quindi ne esce quel che ne esce insomma tanti racconti sono brevi sono delle storie brevi e le persone possono anche decidere di leggere dalla fine dalla metà se un racconto turba può si può voltare pagina se un racconto piace si può continuare a leggerne un altro e poi un altro ancora insomma come si dice uno tira l'altro ma e poi sono queste storie vere che fondamentalmente lasciano un po il segno ecco e sembrano quasi incredibili per cui alla fine quello che rimane è un senso di fortuna che ognuno ha da una parte perché ci sono persone molto più sfortunate quindi ti rimane questa sensazione e dall'altra quella di dire però sì forse è vero che Fanny sta aiutando veramente qualcuno certo ecco questa è la massima realizzazione del mio lavoro di infermiera e ci tengo a sottolineare specializzata ma sempre infermiera ci tengo perché ci tengo molto perché voglio sicuramente abbattere lo stereotipo dell'infermiera che spinge i carrelli alla candy candy quella che pianta gli aghi sulle chiappe o che fa flebo a tutto spiano e perché l'infermiera adesso non è solo questo l'infermiera è specializzata l'infermiera sa stare con il paziente sa creare un certo legame avvicinare gli spazi tra lei e il paziente stesso e quindi secondo me l'infermiera adesso è qualcosa di più di quello che la maggior parte e nell'immaginario collettivo è rimasto e non sono un medico per anche se sono dottoressa e quello che vuoi ma sono un'infermiera quindi ci tengo a portare avanti un po' questa concezione non infermiera in corsia sebbene si parla di storia di straordinaria corsia e immagino che ne vediate ne vedi tutti i colori specie nel vostro e nel tuo settore indubbiamente assolutamente io per spiegare un po' di cosa mi occupo perché magari tanti non sanno neanche il significato di stomizzati anzi chiedo scusa per l'errore mio stomitizzati mi veniva così bene allora io mi occupo dei pazienti che hanno avuto una sportazione molto demolitiva di dell'intestino di parte dell'intestino della vescica della prostata o dell'utero e quindi portano delle disfunzioni non indifferenti disfunzioni che si riflettono sulla sfera sessuale sulla sfera sociale possono portare all'incontinenza urinaria e fecale ecco da qua la mia ultra specializzazione come terapista dell'incontinenza urinaria e fecale possono costringere la persona il paziente a portare un sacchetto sulla pancia temporaneamente o definitivamente questo cambia completamente la propria visione di sé e del proprio corpo e quindi sono persone che vanno incontro anche a depressioni reattive ma molto forti e vanno aiutate e quindi nel libro ci sono queste storie particolarissime dal tradimento della paziente giovane portatrice di istomia e quindi di sacchetto perché il marito non è riuscito ad accettare la condizione al suicidio di qualche paziente che non ce l'ha fatta sopportarla ma anche alla forza d'animo di tanti altri che affrontano chemioterapie, radioterapie con un spirito incredibile e una volontà di guarigione che è contagiosa e quindi queste storie vanno vanno promosse vanno pubblicate vanno reclamate reclamizzate anzi vanno reclamizzate proprio perché danno forza e coraggio da tutti quelli che stanno attraversando un brutto momento e anche in questo caso permettimi bisogna anche rendere le persone dotte su una cosa che magari è spesso sappiamo che fra virgolette no l'ignoranza però la non delicatezza porta e su anche dei familiari infatti parte della nostra del mio impegno ma con me c'è tutta l'associazione stomizzati tutto il direttivo dell'associazione che ha un compito importantissimo insieme a me di sensibilizzare appunto la popolazione sia sul significato di istomia sul fatto che comunque non deve essere uno stigma sociale non deve assolutamente condannare la persona non è un disabile il portatore di istomia è semplicemente un incidente di percorso e come tale va accompagnato all'accettazione e al ritorno a una vita completamente normale. certo allora come vedete cari amici ora priscilla ti volevo chiamare in causa perché non solo perché sono le 22 20 anche perché diamo un po di fiato a fanni è un piacere ascoltarla e come si racconta di cose molto pesanti importanti e anche tristi per certi aspetti ma con una leggerezza ma non leggerezza non mi viene il termine giusto ma con una dolcezza e si è una semplicità che è un piacere ascoltarla e naturalmente come vedete e cara priscilla vedi abbiamo sempre noi lo ricordiamo magari per chi ci ascolta per le prime volte solitamente delle band dei gruppi è una trasmissione un po allegra diciamo spensierata e leggera però e quindi spesso abbiamo cantanti chitarristi o comunque diciamo band perché poi si ascolta la loro musica e va da sé che che si parla di loro però ogni tanto come anche in questo caso abbiamo degli argomenti più impegnativi ed impegnati sicuramente diciamo così apparentemente pesanti però di un certo interesse anche più specifico ed è un piacere anche parlare di queste cose con la nostra pseudo leggerezza nel senso che non vogliamo essere troppo pesanti però vogliamo sensibilizzare sempre le persone priscilla che ti appunto ti chiamavo in causa ed eri pronta lì ti viene da chiedere qualcosa al volo o poi possiamo spezzare questa nostra prima parte con un brano musicale ora io al volo si do a fanni o fanni una domanda che c'è stata fatta da un ascoltatore che non si è firmato risulta come anonimo quindi se l'ascoltatore o l'ascoltatrice in questione poi si vuole firmare così la salutiamo anche in diretta spieghiamo come chiede cosa consiglia a chi vuole a chi vuole fare l'infermiere sì allora molto comunque complessa insomma certo è una strada complessa e noto una leggerezza anche a volte nella scelta di questa professione soprattutto negli ultimi anni fare l'infermiere non significa avere il posto sicuro per esempio e quindi scegliere di fare l'infermiere perché poi divento uno statale ecco speriamo che non sia mai questo lo spirito che guida la scelta e fare l'infermiere deve essere veramente una vocazione per aiutare il prossimo bisognerebbe fare un training prima di iscriversi a infermieristica un training in una casa di riposo oppure in un centro per malati mentali oppure nei centri di riabilitazione delle tossicodipendenze quant'altro insomma quelli che danno un po l'accesso facile e per potersi un po testare perché non è solo vedere sangue fare punture o un corpo squartato ecco essere infermiere poi ci vuole una capacità comunicativa che o sia o non sia e quindi a volte mi trovo con dei pazienti che mi dicono quell'infermiere la mi sta un po sulle scatole perché neanche mi saluta bene o altri invece che magari notano la mano appoggiata alla spalla o la mano sulla mano un sorriso un accenno appena appena mentre l'infermiere entra in stanza e questo fa la differenza perché poi mi raccontano no guarda quell'infermiera è sì bravissima bravissima magari non magari l'ha buccato tre volte prima di trovare una una vena sul braccio però è bravissima perché sa sorridere sa comunicare sa chiedere come sta eccetera quindi prima di iscriversi bisogna fare questo ragionamento qua secondo me non so se ti ho risposto priscilla sì spero anche all'ascoltatore o all'ascoltatrice che che ha posto la domanda soprattutto loro però vedi priscilla e lo dico anche con molta simpatia e poi io che c'ho qua a fianco è un piacere no è bello come la fanni ci dice e ci parla di queste cose che sono non leggere ma con leggerezza nel senso non naturalmente superficialità è un corpo squartato il sangue sì delle cose tanto come se fossero è bellissimo perché loro poi le vedono sul serio queste cose concordo con lei sì perché è una vocazione anche l'infermiere perché è vero e noi tutti bene o male si è stati ricoverati più o meno io poi ne ho a bizzeffe e devo dire che è vero da malato da paziente la sensazione di avere una carezza uno sguardo un saluto ti cambia emotivamente parecchio e caro gian domenico ti chiamo in causa se per caso volevi intervenire tu lì in un cantuccio che ci stai ascoltando se si avevi qualche domanda e poi andrai con un brano giusto per spezzare un po questa nostra conversazione anche se non lo vorrei mandare perché cosa da dire ne abbiamo tante ascoltare fanni è un piacere ci sarà ancora da dire dimmi pure gian domenico cosa grazie gian luca sì allora ero qui a bocca aperta perché davvero la nostra ospite ci comunica tanta forza tanto coraggio e soprattutto davvero si rende promotore di benessere a tutti i costi anche con un dramma così importante come quello dell'astomia eccomi mi ha colpito molto sentirla parlare perché davvero trasuda da tutte le parti questo grande entusiasmo che ha per questo lavoro e per questa situazione anzi ti ringrazio perché davvero mi hai comunicato tanta emozione grazie infatti bravo bravo gian domenico bravissimo infatti è la passione proprio trasuda in quello che dice si sono guidata dalla passione se non ci fosse non so se avrei fatto tutto quello che ho fatto sinceramente guarda voglio raccontarvi un aneddoto l'ultima l'ultima cosa che abbiamo fatto parlo al plurale perché c'era se con me c'è sempre l'associazione ice cam associazione in continenti estomizzati della mia città castello franco veneto e monte belluna provincia di treviso e siamo andati con un centinaio di pazienti sul lago di garda pazienti anche in percorso chemioterapico quindi con tutte le difficoltà pazienti stomizzati pazienti che hanno tutti una storia particolare da raccontare è stata un'esperienza bellissima è stata la prima volta che organizzavamo una gita e vi assicuro che il viaggio di andata e di ritorno è stato forse la parte più divertente in quanto abbiamo cantato abbiamo ballato abbiamo battuto le mani e niente abbiamo dato un giorno di gioia insomma a queste persone quindi ecco il mio lavoro è anche questo capite bellissimo complimenti davvero anche per quello che fai e che fate e naturalmente vogliamo anche salutare fanni coloro che se vuoi io ti ho detto puoi parlare liberamente dei collaboratori se c'è qualcuno in particolare che vuoi ringraziare o salutare e se ci sta ascoltando naturalmente è un piacere immagino o si ascolterà certo beh allora posso nominare il mio presidente dell'associazione assolutamente il dottor pesce che è anche un castellano molto conosciuto pesce giuseppe e poi volevo nominare il vice presidente dell'associazione che ora è diventato il presidente regionale di tutti gli stomizzati agli incontinenti che si chiama attilio regginato al quale devo moltissimo e ha una grinta indescrivibile ecco quindi come avete capito la corsia ospedaliera è questo luogo delle esperienze ma il luogo anche del dolore tangibile sicuramente ma anche il luogo della gioia e della guarigione ecco che da qui e nasce poi il blog da questa idea da questa idea il blog esatto e ne parliamo dopo questa breve pausa musicale cosa dici faniti va bene certo ho scelto un po di blues rock blues che ci rianima un po c'è da un po di carica anche gli amici che ci ascoltano magari se c'è qualche paziente invitiamo a scriverci e che ho qualche magari parente genitore o quant'altro amici che ti conoscono e ci carichiamo con questa carica blues rock non diciamo di dove tutta musica di giamendo quindi non sottossiate che noi mandiamo caro so che tu sei pronto alla regia quindi ti lascio annunciare con la tua verve quadente il brano che andrà ora in onda e poi torniamo subito con la fanni che ci racconterà ancora tante belle cose interessanti ti ringrazio Gianluca ma col cavolo che io annuncio questo brano e questo gruppo dal nome impronunciabile di tra virgolette il tono il titolo dico solo il titolo che è gambling woman buon ascolto su www.radioscience.it 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 Grazie a tutti 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 Buonasera anche a te cara Clara e grazie per aver scritto il commento effettivamente il ruolo di Fanny e anche diciamo di tutti i suoi collaboratori è un ruolo molto delicato e molto importante e quindi veramente fa onore che ci siano queste persone appunto così impegnate in un campo così delicato e grazie a Di e ci sono don't ... con la conversazione che così approfondiamo di più il discorso esattamente infatti perché arriviamo anche un po' e qui diamo anche spazio perché come diciamo tra l'altro ricordo a chi ci sta ascoltando per la prima volta che Sayus e Radio Sayus con i due compagni nello specifico questa trasmissione dà spazio davvero a tutti quindi se volete venirvi a pubblicizzare e promuovere le vostre idee, iniziative eventi come anche questo di Fanny ad esempio che abbiamo un'attrice di un libro ma andiamo nello specifico, anche un blog abbiamo, da dove nasce tutto per cui anche il libro esattamente, il blog è omonimo PelvicStorm Pelvic come pavimento pelvico Storm come stomia quindi non c'è molta fantasia nel nome nel blog ci sono anche consigli ci sono un po' tutti i convegni, i congressi a cui partecipo e tutto quello che si impara, tutto quello che può interessare ecco e da qui sono nate poi le storie che abbiamo raccolto nel libro ma volevo dire una cosa particolare perché non vorrei che sembrasse che il libro raccogliesse solamente le storie drammatiche o quelle di malati e volutamente tra una storia drammatica e l'altra si interpongono le storie tratte dal diario di una terapista del perineo sono delle rocambolesche avventure che fanno sorridere se vogliamo oppure posso dirlo in dialetto sbregare da ridere sbregare da ridere almeno per me per esempio e ce n'è una che si intitola se ha 50 anni li porta molto bene è una storia che mi mette un po' in causa è la mia storia io ho 43 anni ma non lo so e lo dico a voce alta 43 non 53 perché ormai sono abituata a dimostrarne 10 di più me ne danno 10 di più me ne danno così che ci posso fare sarà la magrezza, saranno le rughe o mi stampo la carta di identità sulla fronte o convinco qualcuno a farmi qualche pens di sostegno ma insomma in questa storia praticamente racconto l'avventura di una terapista del perineo che sarei io in farmacia dove la terapista una panettona ma la mia è tutta invidia mi scambia per una cinquantenne dagli anni ben portati e quindi a questo punto mi propone delle creme anti age per ultra cinquantenni e alla fine le compro tutte secondo la farmacia le compro tutte poi nel libro proprio da terapista del perineo io parlo di pene parlo di vagina di ano il fondo schiena eccetera ma con una semplicità di chi deve acquistare duetti di prosciutto al supermercato sono d'accordo per cui c'è anche una storia abbastanza drammatica che si intitola storia di un pene esagerato e di una donna che non c'è e nasconde in realtà un grande dramma che è legato all'intervento di prostatectomia radicale che significa rimozione completa della prostata perché in seguito a questo intervento l'uomo può diventare impotente o anche incontinente e sentirsi un uomo a metà quindi demolito regredito ci sono molte storie che riprendono questo tema ma un altro titolo così per incuriosire è io lui e quella spiracoso oppure io affascinante uomo d'affari con il pannolino tutte storie assolutamente vere bello questo davvero è anche la semplicità con cui Fanny ci racconta le cose che non è mera leggerezza o superficialità è trasformare dal dramma diciamo una cosa per sensibilizzare e porre la gente anche di fronte alla cosa interessante che quello che scriveva Clara che mi ha anche scritto che praticamente ti voleva far sapere che il libro lei lo sta seguendo ancora prima che fosse pubblicato perché ricordiamo e ringrazio anche Clara per gli spunti lei come tanti altri ti seguivano già sul blog ma anche in Facebook quando tu scrivevi le varie storie o vari messaggi quindi raccontaci un po' come è andato quel periodo certo Clara tra l'altro che saluto e ringrazio tantissimo Guidolin non siamo parenti ma non è a caso non ci conosciamo lo sottolineiamo sì esatto allora infatti questa possibilità che internet ci dà di avvicinare le distanze e quindi di sentirci più vicini più uniti è una bellissima cosa perché permette di essere presenti nel momento in cui c'è il bisogno quindi la persona mi scrive quando ha un problema non più tardi di ieri mattina ho ricevuto un messaggio che poi è visibile a tutti nella mia pagina Pelvic Storm di Facebook da una signora di Milano in difficoltà palese difficoltà appena stomizzata da due giorni in disperazione totale semplicemente le ho mandato il link di due brani di due racconti tratti dal blog che si trovano anche nel libro che potevano aiutarla in qualche modo e mi ha ringraziato tantissimo per cui questa interazione questa possibilità appunto di interagire grazie a Facebook grazie ai social ma grazie o Instagram o qualsiasi modalità ci sia la mail anche in caso di problematiche più private ci sarebbe anche Twitter ci sarebbe anche Twitter ci sono i social è la possibilità di aiutare qualcuno che non ha riferimenti perché figure come la nostra di stomaterapista non ce ne sono così tante in Italia non siamo tantissimi infatti non è per dire nel Veneto siamo 35 in tutto il Veneto quindi ecco e quindi diciamo in parte hai già quasi risposto alla domanda che faceva Clara che appunto mi ha scritto perché come ti dicevo lei ti seguiva già prima della pubblicazione ufficiale del libro tramite Facebook e lei voleva appunto sapere quanto Facebook appunto i social i social in genere diciamo come hai appena detto hanno contribuito al successo del libro stesso e quanto la divulgazione del tuo operato in questo campo sia stata utile sì hai indovinato Clara tantissimo la risposta è tantissimo e grazie ai social che poi se uno va a vedere comunque anche nel mio profilo personale fanno i guidolini si trovano solamente i link ai social il link alla pagina o il link al blog per cui Facebook lo utilizzo per questo motivo non per mettere le mie cose personali ad esempio e tantissimo sicuramente farsi conoscere da un pubblico ampio anche se Facebook ci mette lo stop ai 5.000 contatti anche io sono out ormai non ci consente di avere più di 5.000 contatti giustamente mi dispiace un pochino ma allora io invito sempre tutti a seguirmi nella pagina in modo da poter potenziare questo network ecco certo e spunto me ne dà ancora Clara perché ci scrive e mi scrive appunto qua personalmente che ultimamente si parla molto di questa buona sanità infatti te ne do merito e ti faccio i complimenti anche miei personali Fanni per quello che fai perché in effetti è vero fino a poco tempo fa ne era conoscenza solo chi lo viveva in prima persona un problema e naturalmente i familiari stretti poi potevano vedere l'altra faccia della buona e della mala sanità che poi spesso io dico sempre a tutti si lamentano tanto della mala sanità ma non si rendono conto di quante operatrici e operatori come te ma a tanti altri che nell'anonimato e anche nell'umiliazione giornaliera portano avanti e superiscono le carenze di un sistema sempre più collaborodoloso passami il termine un po' così e quindi complimenti e doppi certo è difficile sai comunque rimanere nella privacy quindi bisogna rispettare determinate regole bisogna cercare di aiutare sì ma con criterio e quindi a volte mi sono trovata anch'io in difficoltà con l'utilizzo dei social e ho preferito cancellare qualcosa che avevo scritto piuttosto che farla girare è un strumento a doppio taglio quindi bisogna stare attenti perché ci sono molte persone che non conoscono le realtà magari ci passano per caso nella pagina leggono sono stravolte dal contenuto e magari parlano in modo non corretto e quindi da questo nasce la critica che però non è una critica costruttiva ma diventa una critica distruttiva quasi un insulto magari quasi un insulto quasi un oltraggio alla privacy ma perché scrivi così ecco quindi a queste persone dico sicuramente di documentarsi prima e soprattutto di leggere leggere e poi giudicare sicuramente per il momento non ho avuto difficoltà riscontrate da dalle storie perlomeno insomma i pazienti sono strafelici e ne è prova il fatto che quando faccio la presentazione in qualche posto del libro 50, 60, 80 pazienti l'ultima volta sono venute 230 persone in libreria ho dovuto fare due turni di presentazione i pazienti mi seguono quindi sono protagonisti del libro e mi seguono con affetto quindi non si sentono assolutamente zimbello di nulla anzi felici di poter dare il loro contributo infatti eccezionale stavo dicendo qualcosa Priscilla forse infatti Fanny si è fermata per lasciarti dire forse o stavi annuendo no stavo annuendo però anche per che è arrivata anche un'altra domanda sì dalla chat c'è scritto come riesci a districarsi tra lavoro e vita privata essendo più che un lavoro una vera e propria missione quindi questa è la domanda che viene fatta dalla questa è una domanda che mi coglie preparata perché sto vivendo in questo periodo proprio le difficoltà della gestione multitasking possiamo dire così della cosa allora io sono madre di tre figli 23 18 e 17 anni quindi due adolescenti una più matura ho una casa un cane un gatto una vita privata un compagno eccetera un ex marito insomma è complessa la situazione molto piena perché il lavoro è un lavoro che mi piace e quindi io non torno mai a casa triste o incazzata torno sempre felice e i figli mi guardano e dicono ma scusa tu sei stata a lavoro 8-10 ore ma perché torni sempre felice ecco e quindi forse un po' di gelosia un po' di cioè quindi non è facile ecco gestire il tutto forse sono sempre stata abituata a cercare il massimo nelle cose anche a discapito della mia salute stessa e questo è un po' quello che mi porta a cercare sempre di dare il massimo ecco in tutto poi ogni tanto sposto l'attenzione su quelle che sono le priorità certo bisogna sempre avere delle priorità nel momento che si vive quindi non è facile ecco ed è ammirevole questo perché cara Priscilla e anche chiamo in causa a te Gian Domenico perché perché ti chiamo in causa perché mi viene in mente come tu all'inizio appunto apprezzavi questa sua passione che traspare traspira e trassuda da tutti i pori perché ovviamente pensare anche il lavoro che fa Fanny caro Gian Domenico dice ma come fa a tornare a casa felice che noi per molto meno sempre arrabbiati a subire e altri si lamentano anche per meno ancora giusto Gian Domenico giustissimo Gian Luca condivido condivido e davvero secondo me è una grande testimonianza innanzitutto di tanta professionalità e anche di tanta umanità a tale proposito avevo una domanda da farti Fanny se posso qual è la storia che ti ha colpito più di tutte in tanti anni di servizio sì è sicuramente la storia di due omosessuali di cui uno ostomizzato l'altro meno e in questi ultimi anni dove la sessualità sta prendendo la sua libertà ecco e la liberalizzazione ho trovato che questo racconto potesse veramente dare qualcosa in più rispetto a tutti gli altri perché stare con un paziente stare insieme ad un compagno ostomizzato significa molto significa molto di sé nel senso mi spiego meglio il paziente ostomizzato in questo caso aveva una stomia definitiva per cui un sacchetto definitivo per le feci e non aveva assolutamente l'accesso anale e quindi nessun'altra possibilità insomma e quindi condividere la vita e l'amore e la sessualità con una persona così istomizzata e con queste sofferenze è veramente una missione per chi ci sta insieme e quindi questa è stata una storia d'amore veramente vera pura che magari ce ne fossero di più di così e l'ho raccontata perché me l'ha chiesto il protagonista di raccontarla di scriverla naturalmente nel libro i nomi sono completamente inventati però come si sono conosciuti e poi quello che è successo è tutto vero e quindi due persone intelligentissime che si sono conosciuti al CERN e quindi insomma ecco invito a leggere quella questa è quella che mi ha colpito ma poi anche tutte quelle sulle donne donne malate ma donne anche violentate ho raccontato di donne violentate sessualmente dovete sapere che il 50% delle donne che presentano dolore pelvico cronico ha avuto una qualche violenza sessuale anche dal marito stesso a volte addirittura sono donne alcune forti alcune distrutte ripartite donne coraggio come la mia amica Monica che nomino sempre anche nei congressi è un'infermiera una collega una mamma colpita dal cancro la cui storia è stata per me fonte di tante ispirazioni per tanti racconti parlo anche di donne decedute in me dopo battaglie atroci ma anche di donne che non provano più nulla dopo un intervento o dopo la menopausa cioè un racconto che si intitola aiuto non provo più nulla ecco sono questi forse i capitoli su cui ho trascorso più ore di riflessione forse perché sono donne più vicine alla mia età o forse perché hanno avuto delle sofferenze quindi mi sento così partecipe più partecipe esatto a loro eccezionale anche questo davvero scusa Gian Domenico no no scusate voi no ti ringrazio ancora di questa cosa che ci hai detto perché molte volte davvero non teniamo conto di quanto sia importante la sessualità non solo ai fini personali ma anche all'interno di una relazione di coppia e soprattutto sentimentale eh sì e quanto la normalità a volte venga stravolta da se già in una coppia normale passiatemi la parola fra virgolette ci sono per futili motivi discussioni e quant'altro figurati di fronte a questi problemi seri e profondi come va a stravolgere anche le dinamiche di una coppia giustamente il tema se posso dire il tema dell'amore è compare spesso io sono inguaribile romantica e niente c'è ci sono diversi racconti come ti amo volevo un uomo perfetto e poi sono rimasta sola e mi sono innamorata del dottore che mi cura tu non mi tradirai mai ecco ma poi ci sono anche i bambini quindi ci sono le storie dei bambini che mi chiedono di scrivere una lettera al loro papà malato è lo strazzo di un bambino di dieci anni pensate che mi chiede proprio di scrivere questa lettera papà cerca di stare bene vuole dire con con la sua semplicità oppure l'esperienza di una bambina che disegnava solo alberi e quindi il titolo è proprio questo la bambina che disegnava gli alberi è un racconto che fa veramente riflettere i ragazzi adolescenti per questo è un libro anche per gli adolescenti non solo per i malati o per gli adulti perché questa bambina purtroppo poi è morta era una bambina che ho conosciuto in onco ematologia pediatrica dell'ospedale di Padova lei disegnava alberi bellissimi pieni di foglie colorati con il sole sempre nell'angolo stereotipato giallo eccetera poi disegnava dei tramonti e quindi gli alberi magari un po' più smilzi con il tramonto un giorno ha disegnato un albero secco e stava male stava peggiorando allora questa storia è veramente particolare perché mi trema anche la voce a raccontarla perché sembrava quasi presagire un po' il suo destino e quindi la sua fine questo albero secco nessuno se lo aspettava mai lei disegnava e poi gli appendeva ai muri della stanza ed era bellissimo insomma vedere questo albero secco non ci è piaciuto e poi purtroppo sembrava veramente un presagio e cari amici 22.52 minuti primi cara Fanni hai visto come questa oretta di tempo vola via è ancora di cose da dire e io starei ore ad ascoltarti tra l'altro perché è un piacere davvero sublime stare qui con te e ascoltare quello e come ce lo racconti che dici e naturalmente penso anche i nostri amici ascoltatori che salutiamo subito è da un pezzo che volevo salutare appunto Alessandro il bottegaro Coppo ciao Alessandro sei in linea sì che è in linea perché ho visto che ci ha scritto appunto un messaggio da un pezzo che salutiamo e che naturalmente è colui anche un po' il fautore del certo del premio Brunola sì come lo stesso Roberto che ci ha portato Cristiano me l'ha raccontato da dove è nato diciamo che Alessandro è colui che è un po' fra coloro che hanno ideato diciamo il premio Brunola come c'è quello della strega che è un liquore c'è anche questo che ricordiamo essere un un liquore un liquore nostrano un liquore che non ha più produzione non ha avuto più produzione quindi per portarlo un po' in auge ecco hanno istituito questo premio Brunola io ringrazio tantissimo Alessandro se non fosse se non ci fosse stato il premio Brunola Alessandro è Andrea Tralli ripeto che è sempre co-organizzatore del premio nonché l'editore del libro di pan ed edizioni io forse non sarei qui sì sì esatto e tra l'altro ricordiamo lo stesso Andrea che appunto salutiamo e cui abbiamo già proposto tramite con Cristiano la possibilità se vuole e anche lo stesso Alessandro di aver ospiti avendo la possibilità con me qua sul territorio di avere ospiti gli altri autori o comunque tutti coloro che scrivono verso la pan ed edizioni le porte di Sayuz e di Radio Sayuz con i due compari sono sempre aperte e cara Priscilla ti lascio a te la parola per dire una cosina esatto no diciamo Fanni anche dove si può acquistare il tuo libro il libro che scrive sì certo il libro voglio dire che è già alla ristampa la prima ristampa sono andati tutti venduti quelli della prima stampa e comunque si trova in tutte le librerie le più grandi librerie alla Mondadori sicuramente si può ordinare anche tramite Amazon e in internet quindi si trova anche nella versione Kindle sì e quindi nelle migliori librerie diciamo permettetemi così ci scrive sempre Clara che dice avete pensato di fare anche degli incontri nelle scuole immagino ovviamente di sì che adesso è per sensibilizzare pure i ragazzi a relazionarsi in modo corretto con il problema o con chi ha questo problema so che naturalmente ci sono dei casi di tumori all'utero in età giovane per esempio o altri casi certo allora in realtà noi abbiamo ideato un progetto che prenderà piede probabilmente nel 2018 dopo il congresso regionale che si terrà a Castelfranco Veneto sulla incontinenza per le scuole superiori per le scuole quindi superiori per i ragazzi che frequentano le scuole superiori già con a Montebelluna con la giornata intera delle associazioni abbiamo cercato di sensibilizzare divulgando appunto l'esistenza della nostra associazione e di quello che io faccio in particolar modo con dei fogliettini con delle brochure con dei libretti ma anche con dei poster questa giornata è frequentata per lo più dai ragazzi che hanno non vanno a scuola e possono andare tra gli stand di tutte le associazioni di volontariato quindi già abbiamo fatto questo sicuramente il progetto sarà più strutturato per l'anno nuovo ci sono casi rari di tumore all'utero nelle ragazze molto giovani l'età media dei miei pazienti è 65 70 ecco quindi ragazzi giovani prostatectomia radicale 48 anni è il ragazzo più giovane stomizzata 13enne è la mia paziente più giovane stomizzata 102enne è la mia paziente più anziana però i bambini sono seguiti per lo più dalla chirurgia di Padova e non abbiamo per fortuna tantissimi casi di bambini stomizzati ok bene sì sento zappare Gian Domenico sulla tastiera che qualcosa allora 22 e 57 minuti primi stiamo per giungere alla fine naturalmente grazie Gian Domenico ti passo la parola a te così ci puoi dire anche questa cosa che noi sappiamo quale è no Fanny volevo che tu potessi ricordarci a tutti noi come fare a contattarti o come fare a contattare il tuo blog qualora avessimo bisogno o qualora dovessimo confrontarci con un dramma così importante sì allora nel mio blog c'è anche la possibilità di scrivermi un messaggio privato quindi una mail il mio blog è www.pelvicstorm.blogspot.it ma si può accedere molto più facilmente da google scrivendo digitando Fanny con la i e non y Fanny Guidolin il nome e cognome e quindi da lì ti viene fuori tutto dalla pagina facebook al blog poi dal blog appunto consiglio la mail che rispetta maggiormente la privacy che non un messaggio pubblico certamente grazie grazie a te Gian Domenico invece per la per la preziosa collaborazione e suggerimento perché in effetti ancora e con tutto quello che avremmo da dire e raccontare perché è volata via quest'ora non abbiamo ancora detto quali erano i contatti e naturalmente la possibilità per reperire anche il libro che appunto stiamo dicendo ora cari amici 22.59 minuti primi svolgiamo al termine malgrado tutto perché staremmo ancora un po' certo qualche minuto lo possiamo sforare non è che siamo per fortuna così fiscali commercialmente o pubblicitariamente parlando però stiamo andando un po' sul finale quindi caro Ugo poi metteremo il brano finale l'ultimo della lista giusto per lasciare i nostri amici e andare avanti Fanny ci sono altri diciamo così altri progetti in futuro immediati qualche altra presentazione in cui potremmo venirti a vedere perché diciamolo com'è nato l'incontro di questa sera qui con Radio Science lo svegliamo lo svegliamo allora io e Fanny ci conosciamo ormai da un'eternità nel senso che eravamo compagni di scuola per l'esattezza anche compagni di banco 30 anni sì praticamente sì e io nella mia vita sociale veramente misera quando ho saputo che Fanny ha fatto questa presentazione qui a Castelfranco presso la libreria e alcuni amici e amiche mi hanno detto siamo andati a vedere ma chi è che ha fatto un libro tutti entusiasmati entusiasti della serata ho detto ma chi è è la Fanny ho detto la Fanny c'è stato anche amica in Facebook ovviamente non ci frequentiamo non ci sentiamo dalla vita però ho detto la contatto subito e sicuramente non mi dirà di no per venire ospite e pubblicizzare e parlare anche di questo libro e di quant'altro per cui questa sera sei qui certo e domani sarò a Loreggia che è una località in provincia di Padova che è la mia località di residenza devo dire io mi ritengo una castellana tutto spiano ma sono importata a Loreggia da Loreggia o esportata a Loreggia esattamente domani sera con molto piacere ripresenterò il libro in comune a Villa Rana e spero di avere tante persone che verranno ad ascoltare e soprattutto i miei pazienti a quelli ci tengo tantissimo sono sicura che verranno perché mi hanno già dato molte conferme vedi immagino che sarà pieno e chi ci sta ascoltando ed è sul territorio appunto Veneto nella fattispecie tra la provincia di Treviso Padova e un po' Vicenza può venire anche a Loreggia domani sera domani che ricordiamo martedì 18 18 luglio a Villa no Villa Rana Villa Rana mentre Villa Emo che è Fanzoro saremo con un evento di divulgazione e sensibilizzazione nonché di presentazione del libro a settembre ma è ancora work in progress bellissima d'accordo e comunque andate sul sito sulla pagina della Fanny Guidolin e vedrete tutto caro Ugo Villa Emo dove io sono stato qualche settimana fa tu ricorderai quello spettacolo quindi gira rigira siamo tutti qua non dico siamo i soliti ma sono delle belle diciamo così location che abbiamo qua in Veneto veramente mozzafiato e ammirevoli quindi caro Gianluca mi ospiterai e faremo un giro in questa location che io non ho mai visto parlo sinceramente non essendo delle tue parti anzi delle vostre parti senza altro io veramente sarei un ospite d'onore d'accordo troppo buona grazie naturalmente anche tutti gli altri sai se qua di Treviso quindi le conosce perché naturalmente adesso non per fare pubblicità al Veneto non ne ha bisogno però ci sono dei luoghi veramente meravigliosi qui insomma nelle nostre terre come un po' tutta l'Italia ovviamente ogni zona anche dove c'è la Priscilla dove sta la Priscilla adesso ci sono luoghi spettacolari paesegisticamente storicamente parlando Priscilla sono stata a Wheatley Bay oh yeah non so se l'insco vai merita c'è andrà c'è andrà io adesso sono nella località vabbè prima ho detto vicino a Glasgow ma precisamente a Ballok sì che è praticamente dove c'è il lago L'Oklomond sì quindi sono praticamente lì e anche lì ci sono dei paesaggi che sono veramente spettacolari e poi adesso che con l'estate le giornate sono più lunghe specie lì che naturalmente a nord ti gode il sole o meglio il chiarore del cielo fino alle 11 passate adesso è un tra giorno infatti eh lo so lo so e poi prosegui per addossare Fort William e Loch Ness e vedrai altri paesaggi altrettanto belli fino all'isola di Sky che non è quello che dai scherzo l'isola di Sky allora cari amici siamo giunti alla fine di quest'altra puntata le 23 e 3 minuti primi potete riascoltare naturalmente questa puntata come sempre sul sito di radioscience.it Fanny Guidolin come dico sempre annoverata tra gli amici di Radio Science cara Fanny quando vuoi tornare come dico sempre a tutti ed è vero è sincero di cuore le porte di Radio Science dei due compari sono sempre aperte quindi se dovessi avere non dico bisogno che è sempre brutto ma voglia di tornare qui da noi volere a pubblicizzare ancora altre cose e chissà anche tu magari con un secondo libro noi ti aspetteremo ben volentieri e quando vuoi prenota pure lunedì che ti fa comodo e vieni pure a raccontarci anzi io direi siccome questa puntata non è stata sufficiente questa oretta per raccontare tutto potresti tornare prossimamente naturalmente noi ricordiamo che adesso a fine luglio chiudiamo i battenti come facciamo quasi ogni anno per la pausa estiva di agosto e un po' settembre poi se tutto va bene poi ritorneremo da settembre ottobre in poi quindi preparati che se ci siamo potrai esserci anche tu quando vuoi va bene non se ci siamo ci saremo ovviamente a settembre ah beh sì ma sai con quello io faccio gli scoggiuri ma con gli argomenti di cui si parla no scherzo sai oggi ci siamo domani non ci siete diceva Totò quindi io domani so dove sarò pure io purtroppo domattina allora cari amici grazie per essere stati al nostro ascolto io Gianluca vi da il mio caloroso ben ritrovati per lunedì prossimo dai vi stavo così divertendo con l'italiano a confondervi un po' specie la Priscilla che in questo momento sarà bilingue quindi non saprà in che ora ci sta a collocarsi e ci vediamo lunedì prossimo di nuovo dallo studio 2 di Radio Science questa volta andremo in onda anche in video ci sarà un ospite musicale ci suonerà musica dal vivo sarà davvero un ospite strepitoso e vi aspettiamo quindi lunedì prossimo naturalmente una buonanotte a tutti e lascio la parola alla Fanny per i saluti finali alla naturalmente nostra Priscilla che è ritornata per l'occasione e a Gian Domenico ciao a tutti e buonanotte ciao un saluto brevissimo e bene ciao a tutti e ci vediamo appunto lunedì prossimo a te Gian Domenico l'ultimo saluto grazie della serata e un saluto da Firenze a presto mi accodo i saluti e da parte di tutto il condominio di Radio Science un ciao e una dolce buonanotte grazie a tutti Sous-titrage ST' 501 guitar solo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501